Già, rimanere a contatto il più possibile con le altre avversari senza snaturare la sua eleganza anche se insomma le prestazioni dei 100 e la mattina di oggi sono esperienze che uno si porta dietro difficili da lasciare alle spalle così rapidamente No, e oltretutto il 2.29 è a due secondi dal suo record italiano quindi per lei non si tratta di notare proprio in tranquillità, deve andare ad avvicinare il proprio limite Comunque seguiamola in questa ottava corsia, centro vasca Alexieva e Balfour con Alexieva che mi sembra impressionata a dare il ritmo Il duello in casa le impone di andar forte Sorpreso arrivando alla medaglia dei 100 e credo che sia galvanizzata da questa prima esperienza europea Di fianco a lei la Balfour, una rana che noi abbiamo definito gentile in tempi passati Comunque una rana molto classica, molto bella Peraltro la Balfour è una delle tre atlete inglesi già qualificate per i giochi olimpici Solo tre, ovvero i midagliati individuali ai passati campionati del mondo La sua è veramente una rana, abbiamo detto gentile, anche perché sembra chiedere per cortesia all'acqua di prestarsi al gioco A differenza di quanto fa Alexieva che è piuttosto vehemente nel suo gesto E poi guarda sulla Vestrin anche La Vestrin in alto in prima corsia Chiara è buono il suo passaggio, non è distante dalle migliori Però il problema è che qua bisogna entrare nelle prime quattro E questo mi pare riesco a farlo Guarda, ti dirò, è anche un buon vedere adesso 11.76 per Chiara E questo è buono perché siamo a 5 decimi dal passaggio del suo record italiano Sta risalendo, è quarta, quindi il duello adesso è con la Vestrin E forse anche un po' con la Predeczka, la Polacca Tra loro deve metterle dietro, deve tenere dietro una di queste due atlete Sta controllando bene la nuotata Chiara Sfruttando al massimo la gambata Rimanendo larga anche con gli arti superiori Una nuotata davvero bella Non l'abbiamo vista questa mattina Anche se adesso la fatica si vede La mia paura è questa vasca qua Via La virata Luca, aspetta, dai È un netto peggioramento Due secondi più nella terza vasca rispetto alla seconda Questo è un dato indicativo Purtroppo anche l'occhio vuole la sua parte Però ci prova, ci prova con caparbietà Aumenta un po' di frequenza La bracciata non ha più l'efficacia di prima E ahimè davanti cominciano a salire Vediamo come si chiude Certamente va Va Alexei Eva che sa di avere un duello comunque A prescindere dal 2.26 netto 2.27.90 per la Balfour 2.32.4 per Chiara Per Accademia possiamo andare a vedere Come è andata nel complesso Allora Quattordicesimo tempo No, si spegne proprio la luce in Chiara In questo momento sì Però siccome ci ha abituato a momenti davvero eccellenti Beh che questo momento no abbia come corrispondenza Un momento sì Ma ieri già a Livorno Perché no? C'è un problema solo di Come si dire Istantaneo E poi per quello che sarà Un anno in cui Ci auguriamo Un anno che lei possa vivere come anno olimpico 2.32.4 Non è certamente un bel vedere Per un atleta in grado di notare Assai meglio 2.27.12 Il record italiano Questo già comunque dà un parametro Però La qualificazione è questa Non era neanche tanto distante Per i 2.30.3 E' un tempo assolutamente